La serie si fa La serie si basa su un concetto di campione che gioca in serie A La serie B si basa su un concetto di banana Si piede, la squadra retrocede E il mister si durato si ritira e fa una fine tipo a tropis Oh papaco, oh papaco Andiamo bene, proprio bene Allora ragioniere, che fa? Batti? Ma, mi dà del tu? No no, dicevo Batti lei? Ah, congiuntivo? Sì! Aspetti Perde palla Ha sbagliato sport Così, chi ha fatto palo? Ancora Bonesio, cambia lato Ma cambia addirittura campo That's it, so see Sì, chi ha fatto palo? Sì, c'è un problema più grande. Assoluto, protagonista di quest'ultima fase nella sua metà campo. No, questa è da cacciarlo dal campo. 8 secondi. Sì, c'è un problema più grande. Sì, c'è un problema più grande. Sì, c'è un problema più grande. C'è un problema più grande.